La polizia entra nel fortino dello spaccio della droga Messina, 52 le misure cautelari. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba, obiettivo la piazza di Torbella Monaca, il fortino dello spaccio della capitale, 35 gli arresti nel gruppo criminale organizzato come una vera e propria azienda, con un fatturato da 220 mila euro a settimana, turni lavorativi di 8 ore e capi turno per ogni fascia, ammortizzatori sociali per i detenuti a cui veniva pagata la difesa legale, un'organizzazione di tipo mafioso con a capo una famiglia strutturata gerarchicamente. Per aggirare controlli e intercettazioni, a ogni arresto le utenze telefoniche venivano cambiate. In questo modo era riuscita a sopravvivere a una lunga serie di indagini irritate. Tutti sono ora accusati di associazione finalizzata allo spaccio di cocaina. A Messina è stata invece la polizia a espugnare un altro fortino ostaggio degli spacciatori del quartiere Giostra, la scampia di Messina, come la chiamavano i collaboratori. 350 uomini hanno assediato un complesso popolare strutturato come una vera e propria roccaforte, munita di impianti di video e sorveglianza a ogni angolo, con gli schermi collocati all'interno degli appartamenti per far scattare subito l'allarme in caso di arrivo delle forze dell'ordine. Un sistema rafforzato da vedette e da passaparola degli abitanti che si è però dovuto arrendere di fronte alla ritata della polizia che ha portato all'arresto di 52 persone e posto fine a una faida tra gruppi criminali che da tempo insanguinava il quartiere.